In questo video le immagini di Modena nella serata di lunedì 9 marzo per documentare la situazione dovuta dal coronavirus e dal conseguente decreto della Presidenza del Consiglio che prevede una serie di restrizioni nella vita di tutti i giorni. C'è poco traffico alle 22 e 39. Via Emilia Est alle ore 22 e 40 di lunedì sera. Una strada di solito trafficata anche di lunedì. Questo è un fast food di una nota catena americana. È chiuso perché si può prendere solo da sport. Ecco qua c'è scritto si comunica che dall'8 marzo fino al 4 aprile la sala sarà chiusa dalle ore 18 e sarà servito solo il pasto al servizio auto. Qualche macchina per strada. Questo è il viale Ciro e Menotti. Gelateria chiusa. Questi sono i viali del centro storico di Modena. Questa è via Emilia. Non c'è nessuno. Questi sono dei locali aperti lungo i viali. Di solito sempre aperti. Sono gli avvisi messi davanti a una farmacia in centro. Mascherine e gel esauriti. In Corso Duomo. Ecco questa è Piazza Grande. Piazza Grande senza persone. Ecco qua verso il via Emilia Ovest. Stessa situazione. Traffico a zero. Sempre un'altra catena di fast food. Sempre aperta e chiusa per il decreto. Grazie a tutti.